Buongiorno a tutti, sono Gianni Di Segna, ex dirigente dell'agenzia dell'entrata, da parecchi anni, quasi dieci anni in pensione ormai, e pre-pensione. Prima ho interrotto parla, mi scuso con Luisa Carlo, è un caro amico, sono quasi tutti i carri amici, questi vedete qua, però Proerbio Latvino dice amicus Platon, sed magis amica veritas, Platone è un amico, però la verità è più amica, e allora devo dire, qua abbiamo parlato oggi di carriera degli ufficiali dell'Aquestato, senza parlare degli ebrei, senza parlare del campo di sterminio, cioè degli imprenditori che vengono letteralmente massacrati. attenzione, se dall'alto abbiamo visto il campo di sterminio, qualcuno in America aveva pensato di bombardarlo a Auschwitz, no? Qualcuno non lo hanno fatto e nel frattempo sono morte centinaia di miei persone. Se non bombardiamo quello che vediamo adesso, e cioè i dati che ha sfoggiato anche il mio caro amico Federico Macadino, e cioè che su 60-70 miliardi, questi sono i dati, una ventina vengono sostanzialmente prospettati, una ventina di miliardi vengono prospettati agli imprenditori, perché sono quasi tutti gli imprenditori quelli che vengono massacrati dal fisco. Lì si prospetta che se pagano 5 bene, altrimenti ne pagano 20, perché poi gli altri 40 fanno una fine che poi vedremo, no? Questa 5 a 20 è, a prescindere dalla buona fede dei funzionari, che però non deve bastare, attenzione, perché anche con le leggi razziali c'erano i presidi che mandavano fuori i bambini dalle scuole e rispettavano la lezze, però non dovevano farlo, la buona fede non basta. Bene, questa è l'estorsione più grande di tutti i tempi. Signori, questa è un'attività criminale che viene posta in essere da alcuni anni, contro l'armale non si fa niente. Se non si denuncia in modo chiaro questa attività sostanzialmente criminale, quelli che non lo fanno a questo punto diventano dei comici. I dati sono spaventosi. Ci sono 800 miliardi di crediti indecisibili dell'agenzia delle entrate. Ciò significa che tutti i centinaia di miliardi di accertamenti che sono stati fatti non hanno un monte, come diceva Federico, una capacità contributiva vera. Quindi questa è un'attività sostanzialmente estorsiva che sta spazzando via tutte le piccole imprese pilastro dell'economia e dell'occupazione. Se non chiede denunciata questa cosa, a prescindere ripeto dalla carriera dei funzionari, siamo tutti complici di questa situazione. Per non parlare, per non parlare, degli altri 40 miliardi che in gran parte vanno a commissioni tributarie composte da giudici che a tempo perso e a detrimento del loro lavoro nella giustizia che nelle situazioni drammatiche di eretrato che tutti conosciamo, a tempo perso si occupano degli altri decine di miliardi accertati in modo discrezionale e presuntivo, se ne occupano a fronte di semplici rimborsi spese. Attenzione, attenzione. L'agenzia delle entrate sta regalando ad alcune centinaia o migliaia, diciamo lo so, di persone il potere di vita e di morte economica su migliaia di persone e decine di miliardi e sappiamo che la corruzione è frutto soprattutto della discrezionalità, signori miei. Se poi andiamo ad analizzare fatti singoli e ci sono testimonianze drammatiche che lo dimostrano di sostanzialmente ricatto e distorsione e minaccia che poi vengono fatti passare dall'agenzia delle entrate come testualmente normale rapporto fisco contribuente. Se non fermiamo questa deriva e non denunciamo in modo grave e attento questa cosa, fra un po' il paese andrà completamente in rovina. Dobbiamo fare qualcosa. Tutto quello che abbiamo sentito oggi è poco rispetto alla denuncia molto grave che dobbiamo fare.